Ok, let's go! Ho già capito dal titolo E quindi non voglio fare suspense Voglio fare una serie su Minecraft Vanilla Ora, io come sapete Sono un poco allergico al Vanilla Anche diciamo che non sto giocando al Vanilla Se non su dei server PvP Più o meno dal 2011 Quindi veramente è tantissimo tempo che non giochi in Vanilla Però ragazzi voglio fare un po' una nuova avventura Un po' una cosa nuova Non lo so, una roba anche un po' di costruzioni Di costruzioni, di così Veramente una cosa nuova per tutto Vanilla Una serie su Minecraft tutto Vanilla Proprio straight on, così A stile Minecraft per capirci Stile Minecraft, stile Minecraft Ovviamente single player Perché non abbiamo un server mega figo Tipo come era la EasyCraft ecco Però il single player Anzi credo che, non so se chiamarlo Minecraft Vanilla Semplicemente, Minecraft Vanilla Perché no? Minecraft 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 Quindi cominciamo, io creerò il mondo Lascerò che il terreno si generi Ragazzi ci metterà pochissimo Sono abituato al terreno generarsi con alberi strafili Oddio è da così tanto tempo che non entro in Vanilla Oddio Sono veramente Oddio Ci sentiamo quando abbiamo il nostro mondo Ora metterò il world type default Quindi si lo lascerò proprio default Volevo fare una cosa amplified Però nah Lasciamo default Le strutture on I cheat off La bonus chest Così proprio giusto per velocizzarci un poco E come seed andremo a mettere Minecraft Vanilla Let's play Così qualsiasi persona che voglia Qualsiasi chi persona che voglia giocare con me Potrà vedere il seed So one merlo Non ci sta più Così Ragazzi Siete pronti Per l'ignoto Ok ragazzi siamo tornati Allora ho notato di avere il FOV a Quake Pro Ora non lo so Io sono abituatissimo così Minecraft così mi sembra veramente strano Ma cercherò da ora in poi di tenerlo sempre così Perché so che è molto fastidioso per alcuni Comunque eccoci qua Finalmente potete vedermi con la nostra felpa Siamo nel nostro Nuovo Mondo Ok allora Sembra che siamo In un bioma di Dark Rock Che al momento non ricordo il nome Lo prendiamo a tutto il nostro legno Abbiamo anche del legno di acacia Molto buono Abbiamo anche già un piccone Spacchiamo Cosa c'è? Sto usando comunque la Faithful Come resto Spacchiamo quindi Ok Nulla di così particolare E sì Ora la prima cosa che andrò a fare Sarà lockare la difficoltà su Hard Boom Boom World Locked Proprio perché voglio fare un bel let's play Quindi non voglio fare minghiate Non voglio farmi sentire e dire che Hey Tu non hai Fatto le cose belle Allora Prendiamolo nel legno Riprendiamolo Per darci l'archive Getting food So che è un po' strano Però E ci tengo a farlo Facciamo la crafting table E stavo già facendo la tinker io Ok Facciamo la nostra prima crafting table Prendiamola qui così E facciamo Stick Ne abbiamo già Sbagliato già di nuovo Matonci quanto tempo Che è un gioco in vanilla Mio dio Facciamo un'ascia E andiamo A chop down wood Ora farò Questa sarà La serie dei tagli Perché veramente cercherò di fare Più progresso possibile In ogni episodio Quindi Sì Insomma Cercherò di fare Tanto progresso Piuttosto che Tante chiacchierate così Ovviamente questo è il primo episodio Quindi un po' starò qui A prendere i primi alberi Con voi così Ad ogni modo Sappiate che appunto Ho intenzione di Di fare Tanti tagli Ok ragazzi Sono un po' salito qui in cima Per guardarmi un po' intorno E sembra che lì abbiamo Un deserto Lì abbiamo Una Una bioma di quelli di acacia Una savana Per la quale sono veramente contento Che abbiamo la nostra dark forest E lì abbiamo dell'altro deserto Io non vedo altro Ma volevo muovermi un po' Verso il bioma di acacia Perché quegli alberi Mi piacciono da morire Quindi volevo Un po' Finire di tirare giù Questo alberello Per prendere almeno Un sapling di dark hawk Almeno 4 sapling di dark hawk Perché non vorrei Dovermi ritrovare poi A metà stagione Oh voglio gli alberi Di dark hawk Non ho preso il sapling Perché sono sicuro Che succederà così Mi conosco troppo bene Troppo bene E sì Ad ogni modo Per già questo Primo episodio Volevo già cominciare Un po' A fare una Una base Abbastanza anche estetica Insomma Comunque avere una piccola casa Dove stare E volevo già cominciare Da questo episodio Volevo usare tanto hawk E tanto spruce Che non troverò Di sicuro Quindi al passo Dello spruce Penso che userò Il dark hawk E sì Yeah Non saprei altro Cosa dire Mi piace Sono veramente No Sì Non mi capisco Sapling Guardate cosa Mi sono ritrovato A fare Per i sapling Non per dire Ma per quanto Sono affettinato All'ho dato Ok ragazzi Ho continuato un po' Qui a prendere Un po' di risorse Adesso stavo tagliando Un albero di hawk Qui da qualche parte E mi è finita l'ascia Allora ho detto Torniamo alla nostra Cracking table Per fare un'altra ascia E mi sono perso Giuro Questa foresta Di dark hawk È disorientante Lo giuro Allora lì c'è la caccia Quindi Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Oh cazzo Tu non hai visto niente Mi sto sforzando Di non correre Perché Non abbiamo ancora cibo Stronzo Vabbè tu sei Buono Hai paura dell'acqua E sì Mi sono leggermente perso Qui Credo Oh mi sono ritrovato Scappando da un creeper Sta anche venendo a notte Quindi Io ora volevo Continuare un po' A raccogliere Delle risorse E credo che Quello che farò Più o meno per tutta la notte Volevo Dell'oak Perché userò dell'oak Nella casa che andrò a fare Ne userò anche paricchio Quindi Volevo dell'oak E poi comincerò a muovermi Verso il piano di acacia Perché è lì che voglio creare La prima acacia Perché penso che L'acacia sia fantastica E ci vedremo lì Per costruire la nostra prima Casa Ovviamente se ci sono altre novità Mi farò Mi farò sentire prima Insomma Ecco L'alco Comunque ho appena Notato una cosa Se vedete il colore dell'erba Qui è diverso Perché questo Piccolissimo Spratto di Di posto Qui intorno È un minuscolo Bioma Planes Ragazzi Per esempio Qui sono planes E qui diventa già Dark forest Roofed forest Ecco esatto Abbiamo un minuscolissimo Bioma Di planes Insomma È una cosa Credo che sia abbastanza Rara Perché ragazzi Le planes di solito Sono immense Non me lo aspettavo Non me lo aspettavo Non mi modo Credo che mi AFK però Qui un attimino Con la mia torcia Io e lei Soli Ti fa un po' di Shreps Solo io e te E torneremo Quando la notte Sarà finita Ok ragazzi Sono passati circa 20 minuti Io mi sono semplicemente Camperato qui dentro E la notte è passata E gli zombie sono morti Yeah Quindi potremmo trovarci Anche del fantastico Buonissimo cibo Per terra Se riusciamo Ad andare In fretta Prima che Despavni La carne di zon Oh ecco Del cibo Yeah Ho anche una mela Ma la tengo Perché le miele sono melose Intanto facciamo così E così Giusto per Tenerci un attimo Andare E Vorrei prendere Anche questa sed Ma Quanto ho 35 Allora Non mi Non mi dispiacerebbe Collezionarmi Giusto Un poco di più Quanto bello C'ho 19 No Questo basta Perché bello Ci userò Pochissimo E poi Cominciare Yeah Tra il resto Sto pensando Tantissime nuove cose Che io Non ho mai giocato Non c'ho mai giocato Per esempio Posso usare Le fence Le fence No 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 Che cosa Attenzione Il primo livello Di esperienza Si fa così Un'altra mela E un porco Ccellino Che non aspettava Altro di essere ucciso Ragazzi Così si fanno i cibi Cioè adesso Tu non E' stufato No 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 Vabbè Almeno abbiamo Un po' di terra Gratis Yeah Free earth E abbiamo Un petto di legno Gratis Yeah Ok Comunque si Per chi non l'avesse ancora visto Ho la Ho la optifine Ma non so perché Qui c'è Funzione E qui no Quindi Vabbè E non so perché Non c'è più la funzione Del zoom Non so se voi sapete perché Ditemelo Ma nella optifine 1.8 Non c'è più lo zoom Era la cosa che mi diceva Di più della optifine E ok Ho finito l'ascia Direi che per ora Può bastare Iniziamo a muoverci Verso l'infinito E le acace Ok ho appena realizzato Dopo un'ora di cammino E essermi perso Varie volte Intanto che non ho preso La crafting table Che c'era lì Così Sì l'avevo presa E Ecco E che è molto più facile Camminare sulle cima Degli alberi Perché vedo dove devo andare E non ho tutti gli ostacoli Quindi Sì Fail Cos'è quel bioma lì Vedo Ah no È sempre il bioma delle acace C'è il bioma delle acace Che fa tutto così Probabilmente in mezzo C'è il deserto Ok Buono Un deserto fa sempre comodo All'inizio Perché ci sono le caverne Più buone E c'è la sabbia Per il vetro Soprattutto Quindi Sei Ok E adesso Come minchia scendo Et voilà We are in the Acacia biome E Speravo veramente Per delle pecore Ma a quanto pare Non ce ne sono Veramente Le pecore sarebbero La cosa ideale Perché Mi permetterebbe Di non trascondere più Delle noti AFK Ho una stringa su 12 Sì Cercherò delle pecore Magari anche Nel frattempo Qui vedo dell'altro rock Nel frattempo Cercherò un buon posto Per dove voglio cominciare La mia casuspia E comincerò a costruire La mia casuspia Quindi vi terrò Aggiornare Che cazzo 4 blocchi di sugarcane Sul serio LOL Da quant'è che crescono 4 blocchi Io ne ho sapevo 3 Che era il massimo Vero Non contradditemi Vero 4 al massimo 3 No AAAAAAAH Ok ragazzi E dall'ultimo Mini segmento A questo Da 10 secondi fa Adesso Per voi È passato tipo Un giorno Per me Quindi non mi ricordo Assolutamente Come avevo concluso L'ultimo segmento Quindi Scusate Mi stesso Suono un po' strano Perché non mi ricordo Assolutamente Cosa avevo fatto Prima di concludere Insomma Le cose che dico Potrebbero non essere Del tutto coerenti Ad ogni modo Credo che Avessi deciso Di cominciare a lavorare Sulla mia casa Ed è quello Che farò al momento Quindi Yes Ora Non credo che farò Un timelapse Almeno per ora Non ho intenzione Di farlo Al momento Ma Se volete Se voi Vorreste un timelapse Scrivetemi Qui sotto nei commenti Cosa preferite Se preferite Che vi faccia Tipo Degli step graduali Per esempio Bene Adesso vado a lavorare Punto Taglio Ho fatto questo Punto Taglio E adesso Ho fatto questo Punto Taglio Oppure se volete Un timelapse Quindi potrei installare Anche una camera Camere Qualcosa Ad ogni modo Get to work See you in a little bit Ok ragazzi Siamo tornati È passato Circa un'oretta Dall'ultimo segmento Ed ecco cosa sono Riuscito a fare Tadam E si Fa veramente schifo Fa un po' schifo Non era esattamente Quello che mi aspettavo Ad ogni modo Teniamo conto Che è la Sera il primo episodio Insomma ho veramente Pochissimi materiali Con cui lavorare Di sicuro Verrà Abbattuto Quando avremo Abbastanza materiali E comunque Cose predate Verrà abbattuto E costruiremo qualcosa Di molto più figo E spettacolare Ad ogni modo Credo che per questo episodio Sia tutto il tempo Che ho per oggi Quindi spero Che questa idea Di questa nuova serie Vi stia piacendo A me Sta piacendo Sta piacendo Ritrovarmi di nuovo In Minecraft originale Dopo così tanto tempo Veramente È passato tantissimo L'ultimo attacco Giocato in vanilla Voi non potete Neanche capire Non so perché Ho notato Adesso ho un bottone Non chiedetevi perché Ma ho un bottone E non ho paura Di usarlo Per metterlo qui Non posso piacere I bottoni sulle scale Allora Lo metterò Qui Ok Non so perché Ho un bottone Però probabilmente È stato un errore Ad ogni modo Ora io andrò A prendere più Dark walk Per finire il tetto Avrei veramente voluto Che questi fossero spruce Degno di spruce Però Lo spruce Non sembra essere vicino In questo posto Userò Probabilmente Un software Di mappatura Per Fare una mappa Del mondo Dove è vedere Dov'è lo spruce Dov'è la clay E Dov'è lo spruce Soprattutto Ma anche Dov'è lo spruce E dove la clay E dov'è il pack dice Quindi Per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Della visione Vi rimando I prossimi video Che 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 Iscrivermi qui sotto nei commenti Se la serie vi sta piacendo Spero di sì E ad ogni modo Vengate per la visione Prima del prossimo video Che caricherò E Ciao ragazzi